A Castrovilla ricontinua lo screening covid sul territorio. L'amministrazione comunale e il comitato locale di Croce Rossa hanno deciso di estendere il servizio anche a tutti i cittadini fuori sede che rientreranno per le festività natalizie, una misura che tranquillizza la comunità in vista della zona gialla che in Calabria scatterà a partire da domenica 13 dicembre. I test rapidi verranno effettuati sempre presso l'area mercatale e sempre in modalità drive-in, ma questa volta non sarà necessario il parere del proprio medico, basterà prenotarsi personalmente al numero 0981 25268, indicando i propri dati anagrafici, il luogo di provenienza e la regione del rientro. Un provvedimento questo che permetterà ai cittadini di rientrare in sicurezza, ma soprattutto di infonderla ai propri familiari.